per cabrini ho fatto il bersaglio tutto l'intervallo mamma mia quanta neve mi sono preso il mio primo bacio invece l'ho dato per graziani all'amoroni e non sai che cosa mi toccato fare per avere l'introvabile pizza balla e quella volta per palanca mi sono preso uno di quei raffreddori e che litigata con il mio migliore amico per pulici siamo andati avanti un'ora ci ha separati il maestro beccalossi invece me lo sono guadagnato lavando l'auto del nonno ma la più bella la più bella è quella di bagni pensa che ho dovuto correre per tutta la scuola e per rivera ho barattato la mia bici 50 anni di calciatori panini le emozioni si attaccano vi pare chiaro o no non sanno dove stanno andando tifosi fuori dalla sede e la nostra squadra non gioca uno straccio di difensore di portiere un'ala di estasi ma l'attaccante non c'è qui è ora di vincere cercami un attaccante adesso ce l'hai a